Che è successo? Hanno messo una bomba nel tunnel. Quando c'è stata l'esplosione, la SWAT stava scavando l'ultimo tratto. Ross e Miller sono ancora vivi. Sì. Tiffany invece dov'è? È ancora di là, ma non sta per niente bene. Suo fratello sembrava disposto ad ascoltarla. Potrebbe riprovare a farlo ragionare. Ce l'ha un piano B? Il tunnel è crollato. Abbiamo già ripreso a scavare, ma potrebbe volerci del tempo. I capitani Ross e Miller non hanno altri familiari? No, Tiffany è l'unica che può riuscire a instaurare di nuovo un colloquio. Ok, d'accordo. Allora le parlerò fuori di qui, da sola. Va bene. Ehi, grazie Josh. Che dimettivo. Tiffany, guardami. Se vuoi che non commetta follie, devi parlare ancora con lui. Devi fargli aprire gli occhi sulle conseguenze e aiutarlo a tirare fuori il suo lato umano, ok? Ricordagli chi era, fallo tornare il ragazzo che era prima. Non riuscirei ad assistere alla sua morte. No, non succederà, perché tu mi farei cambiare idea. Hai capito? Puoi farcela, parlando con lui. Ok? Andiamo. Andiamo.